Com'è bello lavorare con lei, basta che non sia per prendere ordini. La parità ormai fa parte della nostra cultura, è accettata nelle mentalità e nelle imprese, lo dimostra un studio di Masar pubblicato in occasione del Women's Forum. Il 63% degli uomini intervistati preferisce lavorare con delle donne in ufficio, per il 68% la stragrande maggioranza il sesso, il genere non condiziona il lavoro, non cambia la professionalità, anche qualità un tempo ritenute maschili come il coraggio, l'affidabilità, la capacità di dirigere un gruppo, sono ormai anche ritenute qualità femminili. Peccato però che esiste ancora una minoranza, il 33% di uomini, che non vuole lavorare con un capo donna e preferisce avere un superiore maschile. Resiste uno stereotipo, un cliché, nonostante i tanti esempi di leadership femminile di sede a Christine Lagarde, a Angela Merkel, c'è speranza però, conclude il rapporto di Masar, sulle nuove generazioni, la generazione Y, i trentenni di oggi, che sono pronti e accettano di lavorare con delle donne al comando.